Via erba e rifiuti dagli edifici privati, Prato La Peligna chiude le porte al degrado con il provvedimento firmato lo scorso 15 maggio dal sindaco Antonella di Nino. Nell'ordinanza si impone a tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane in colte e di corti privati comuni, i proprietari di case e di amministratori di stabili con annesse aree verde, di provvedere a effettuare relativi interventi di pulizia mantenendo per tutto il periodo estivo a partire dal 15 maggio fino al 30 settembre 2023 condizioni tali da non accrescere pericolo per l'incolumità, igiene pubblica e pericolo incendi. È stato inoltre ordinato il taglio dell'erba, la rimozione dei rifiuti nelle aree private poste all'interno dei centri abitati, capoluogo e frazioni e in prossimità di civili abitazioni. In caso di inosservanza del provvedimento e trasgressori sarà combinata una sanzione che oscilla da 25 a 500 euro. I lavori necessari saranno inoltre eseguiti d'ufficio con addebbero delle spese a carico dell'inadempienti qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato, un'ordinanza annuale non proprio scontata, necessaria per ripristinare il decoro urbano.